Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. In apertura parliamo di un'operazione antidroga compiuta dalla polizia locale di Venezia che ha arrestato a Mestre vicino alla stazione dei treni un tunisino di 39 anni trovato in possesso di eroina naturalmente ai fini di spaccio. Parliamo di un sequestro ingente per mezzo chilo di droga. I vigili in Borghese hanno controllato a vista il pusher e lo hanno sorpreso mentre vendeva della sostanza ad una donna. Da lì poi sono scattati i controlli che sono arrivati fino a perquisire una stanza d'albergo che era stata trasformata dall'uomo in una centrale dello spaccio. È stata trovata eroina in sasso per mezzo chilo. C'erano anche 16 dosi già confezionate e pronte per essere vendute. Dentro la camera c'erano anche tutti i materiali che l'uomo utilizzava per confezionare lo stupefacente da immettere sul mercato. E adesso una cronaca tragica che arriva dalla città di Padova. Nella tarda mattinata di oggi marito e moglie sono stati trovati privi di vita all'interno della loro abitazione. È successo all'Arcella. Sentiamo cosa dicono le indagini e cosa emerge dai primi riscontri. Duplice tragedia scoperta Padova giovedì mattina. In un'abitazione singola di via Camagno nel quartiere Arcella sono stati trovati i corpi senza vita di marito e moglie. Michele Perino, 85 anni, e Cesarina Pescante, 84 anni, erano riversi a terra vicino al portoncino di ingresso all'interno della casa. La morte dei due anziani al momento è tinta di giallo. I corpi non presentano segni di violenza, quindi sembra essere esclusa l'ipotesi di un duplice delitto. Sul posto sono giunti gli uomini dell'arma che hanno avviato indagini e rilievi. Presente il medico legale che attribuisce le cause del decesso a morte naturale. Secondo le testimonianze, la casa era gelida, ma possono essere stati colti da malore fatale provocato dal freddo nello stesso momento marito e moglie. Questa probabilità non viene esclusa, ipotizzando che prima si possa essere sentito male uno dei due e che l'altro coniuge, vedendo ciò che accadeva, sia stato a sua volta vittima dello stesso male. Sono ore di indagini che proseguono per ricostruire quei terribili momenti. Confiscati beni immobili per 600 mila euro ad un imprenditore salernitano, ma con varie attività lavorative in Veneto. In particolare, l'uomo sarebbe rappresentante legale di sei aziende operanti in provincia di Vicenza. Secondo le indagini compiute dalla Guardia di Finanza, sarebbe emersa un'evasione fiscale milionaria, ma sarebbero emerse anche fatture false con costi fittizi per oltre 25 milioni di euro, generati al fine di ottenere un illecito risparmio IVA per 5 milioni di euro, oltre ad un'evasione IRAP pari ad 1,4 milioni di euro. Giovedì mattina a Mestre si sono verificate due rapine sulle quali sono in corso indagini da parte della polizia. Prima dell'ora di apertura ha preso di mira un supermercato. Il rapinatore ha anche suonato il campanello. Una dipendente ha aperto pensando a dei colleghi, ma si è trovata tu per tu con un criminale che dopo aver estratto un coltello ha preso il denaro presente in cassa e si è dileguato. Poche ore dopo un altro colpo, questa volta in un istituto di credito del centro, anche in questo caso un bandito solitario che ha estratto un'arma da taglio, in questo caso un taglierino. Nel secondo episodio l'arma era diversa, quindi questo fa presupporre che si possa trattare di due soggetti differenti, ma sono in corso indagini. Bottino del primo colpo 5.000 euro, ne ha fruttati invece 4.000 il secondo. Ha colpito con l'acido l'ex fidanzata che ora è ricoverata all'ospedale. Una vicenda grave avvenuta in Emilia Romagna. Lei è un volto noto per varie partecipazioni nel mondo dello spettacolo e anche per i nostri telespettatori che l'hanno vista partecipare ad un video musicale. Il loro sembrava un amore profondo nella vita quanto nel video. Avevano recitato insieme nel video musicale del cantante Omar Lambertini. Lei, Jessica Notaro, ora è ricoverata all'ospedale dopo essere stata aggredita e cosparsa di acido. Le accuse sono proprio nei confronti del suo ex fidanzato nella vita e compagno nel video musicale che li ritrae pieni di passione e inseparabili. Lui, di nazionalità capoverdiana, sostiene di avere un alibi e respingere le accuse. Quella sera Eddie Tavares racconta di essere stato a casa di un'amica. Qualcosa però non torna ed è stato sottoposto a fermo con le accuse di lesioni aggravate in attesa della convalida dell'arresto. Jessica è una bellissima ragazza dell'Emilia Romagna, nota per aver partecipato come finalista a Miss Italia e per numerose partecipazioni nel mondo dello spettacolo. L'acido che le ha colpito il volto sembra possa comprometterle la vista. A Bibione, tragedia in hotel, un albergatore, Giorgio Clementi, 78 anni, proprietario del Grand Hotel Esplanada, stava accudendo la piscina. In particolare, sembra stesse rompendo il ghiaccio che si era formato a causa delle temperature di questi giorni. L'uomo è scivolato dentro la vasca, avrebbe tentato di aiutarsi da solo, riuscendo anche a spostarsi di alcuni metri, ma sarebbe stato colto da un malore risultato purtroppo fatale, provocato dalle temperature rigide. A fare la terribile e tragica scoperta, il figlio. Padre e figlio, dediti all'attività di spaccio di droga. A scoprirli i carabinieri di Martellago, nel Veneziano, che in seguito ad alcune indagini nella zona tra la riviera del Brenta e la Castellana, sono arrivati ai due. L'uomo è stato arrestato, mentre il figlio di soli 16 anni è stato denunciato. Sottoposti a sequestro, denaro per quasi 1000 euro, probabile provento dell'attività di spaccio e sostanza stupefacente per 62 grammi. E adesso parliamo di istituti scolastici della città di Padova. Parliamo del Barbarigo, tra qualche giorno il secondo Open Day nell'istituto scolastico. Ecco i dettagli per poter partecipare. Secondo Open Day al Barbarigo, nella giornata di domenica 15 gennaio 2017, dalle 15 alle 17, con informazioni sui vari indirizzi di studio e sulle caratteristiche della scuola diocesana attraverso incontri e dialoghi con il preside, professori e anche con i genitori, alunni ed ex allievi. Oltre alle medie, gli indirizzi di studio per le superiori attivate dall'istituto sono i licei classico e scientifico, anche nell'opzione scienze applicate e il tecnico economico, tutti con l'opportunità del potenziamento musicale. Per gli iscritti al primo anno ci sarà la possibilità, a seconda delle condizioni economiche e familiari, di una riduzione anche consistente della quota di frequenza. Il rettore, Don Cesare Contarini, è disponibile a incontrare genitori e alunni interessati a una conoscenza più diretta del Barbarigo. Nel pomeriggio di ieri, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, è stato udito un boato che ha spaventato molte persone. L'episodio, che potrebbe essere stato causato dal boom sonico di un aereo, è stato segnalato intorno alle 18.34. Il comando statunitense e il comando dell'aeroporto di Aviano hanno reso noto che a quell'ora erano in una zona di addestramento alcuni velivoli appartenenti al stormo 31esimo distanza ad Aviano. Dal comando hanno fatto sapere che le dinamiche dell'evento sono al baglio del personale tecnico con l'intento di individuare le cause esatte che simili circostanze non si ripetano in futuro. È stato condannato a sei mesi di reclusione un quarantenne della provincia di Treviso che lavorava per un'azienda che si occupa di consegne di prodotti alimentari. L'uomo che incassava anche denaro dai clienti aveva il vizio del gioco e dopo aver puntato e perso il denaro che doveva portare in azienda si è inventato una rapina. Era stato lui stesso prima a denunciare e poi a raccontare la verità. È stato condannato per simulazione di reato. E adesso cambiamo completamente argomento. Questa mattina a Padova abbiamo incontrato Leandro Barsotti, giornalista, scrittore e cantante. Con lui abbiamo parlato del suo romanzo. Guardiamo. Se è vero che tutto può finire è anche vero che tutto può rinascere. Questa è una frase contenuta nel libro L'amore resta di Leandro Barsotti. Un romanzo davvero molto bello e molto profondo. Leandro Barsotti oggi è qui con noi. Ciao. Ciao, buongiorno e grazie per questo invito. Allora, è una frase che ci ha colpito molto. Vogliamo scoprire qualcosa di più di questo romanzo. Intanto, chi sono i protagonisti? I protagonisti sono tre. Però diciamo che il protagonista principale è un uomo che ha passato da poco la quarantina, single. Single si è trovato single perché ha finito una relazione d'amore in Italia, segue una onlus in Africa e lì sarà travolto da un nuovo amore. Una giovane donna africana che pur non parlando la nostra lingua in qualche modo riuscirà a parlare quel linguaggio incredibile che è il linguaggio dell'amore e che ci permette di comunicare anche senza le parole. Io ho proprio voluto raccontare, un po' come facevo quando facevo le canzoni, raccontare i sentimenti in tutte le sue sfaccettature. Cioè l'amore che finisce, l'amore che comincia, quello che c'è tra un amore e l'altro e quello che resta quando c'è questo passaggio da un amore all'altro. Per questo il titolo L'amore resta. Credo che qualunque sia la nostra esperienza, la vostra esperienza, quello che riguarda i sentimenti, quando c'è stato un momento di sicuro in cui avete pensato oddio, dove è finito tutto quell'amore, tutta quella cosa che sentivamo, tutta quella cosa che vivevamo insieme, quello che provavo, che fine ha fatto. Da qualche parte dentro di voi è rimasta. Però si trasforma, come dicevi, e si può rinascere. Tutto quello che finisce può anche rinascere. Ogni volta che ci sentiamo con le spalle al muro c'è sempre una via di fuga. E la storia di questo protagonista è una storia che, sebbene sia una storia di fantasia, in realtà ti conduce in alcune dinamiche di noi stessi, del nostro sentire, della nostra anima, che ci fanno capire come ci sia sempre una soluzione, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Ecco, c'è un'altra frase molto bella, che tra l'altro è riportata nella parte posteriore del libro, che dice c'è una ragione per tutto ciò che accade. Sì, io penso che le cose che ci accadono nella vita, in qualche modo dobbiamo prenderle per quello che ci possono dare, per quello che ci possono insegnare e per come possono cambiarci in meglio. Leandro Barsotti, giornalista, compositore, cantautore, scrittore, come riesci a conciliare questi vari ruoli e qual è quello che ti piace di più? Allora, giornalista sì, adesso non lavoro a Matteo Mipado, ma come sai, da molto tempo, no, ma questo è un lavoro bello, poi mi dà la possibilità di conoscere molte persone, di racconoscere molte storie, anche questo di nutrire la mia fantasia anche. nella musica, la musica è una cosa che amo molto, la seguo molto, ogni tanto scrivo qualche testo per qualche artista, ma noto che i giovani cantautori italiani stanno cambiando moltissimo il linguaggio della canzone, questo mi piace, li seguo con attenzione e lascio che siano i più giovani a portare avanti il pop, pur non dimenticando che ho fatto delle cose belle anch'io, in passato, e invece la parte di scrittura è quella che in questo momento mi interessa di più perché credo di poter dare in questo momento della mia vita il meglio di me nella scrittura di romanzi e ne voglio scrivere un altro, presto. Leandro, grazie per questo approfondimento di oggi e magari ci incontreremo prossimamente. Grazie a te e grazie a tutti. E adesso proseguiamo il nostro telegiornale parlando di clima, temperature gelide ormai da giorni e molti chiedono ma quanto durerà questo freddo? E allora sentiamo cosa dicono gli esperti. Temperature glaciali che fanno battere i denti in questo gennaio 2017, gradi sotto lo zero nelle città di pianura anche nel corso delle ore diurne. Ma quanto durerà il clima così rigido? Secondo gli esperti del meteo, almeno altri dieci giorni. Spiega Edoardo Ferrara di Trebbi Meteo che l'anticiclone resterà lontano dalla nostra penisola per almeno altri dieci giorni, lasciandola in balia di ripetuti vortici freddi che porteranno un maltempo, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma tratti anche al nord. Il tutto accompagnato da un nuovo calo delle temperature, specie da venerdì, con clima freddo che perdurerà probabilmente almeno per tutta la prossima settimana. Tra giovedì e venerdì è attesa una nuova perturbazione con precipitazioni che potrebbero essere nevose anche al nord. Abbiamo sentito una panoramica generale sul freddo e su quello che ci dovremmo aspettare dai prossimi giorni. Vediamo adesso secondo l'ARPAV di Teolo cosa aspettarci per le prossime ore. Tra questa sera e venerdì, precipitazioni anche diffuse, con neve in montagna e a quote collinari. In pianura andamento irregolare con fasi di neve. Neve mi sta pioggia e pioggia. La neve sarà più probabile nella serata di oggi con l'inizio della giornata di domani. Accumuli previsti però molto scarsi. Poi ci sarà una seconda nevicata con delle piogge a partire dalla seconda parte di venerdì quando si potranno avere anche dei rovesci nevosi. possibili in questo caso accumuli di centimetri. Probabile formazione di ghiaccio al suolo. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a rimanere con noi e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Buonasera, sono Belinda D'Angelo. Sono contenta di essere con voi anche questa sera per darvi delle informazioni utili per il vostro benessere psico-fisico, quindi fisico e mentale. Questa sera parleremo di come camminare correttamente, quindi di come allineare i nostri arti inferiori affinché scarichiamo bene il peso su tutte le articolazioni. Adesso passiamo a vedere l'esercizio. Bene, adesso abbiamo come modella Giorgia, ci sta facendo vedere come generalmente le persone camminano con un allineamento degli arti inferiori scorretti. Come potrete notare, le dita del piede, che solitamente è l'errore più comune, vanno verso l'esterno. Questo non permette di scaricare tutto il peso del tronco correttamente sulle articolazioni. Adesso si fermerà circa qui metà, Giorgia, ok, e cercheremo di capire come dovrebbe essere invece giusto almeno l'allineamento degli arti inferiori. E poi cerchiamo di tenere l'allineamento corretto nella camminata. Sulla camminata ci sarebbe da dire molto, perché dovremmo partire dall'appoggio plantare per finire alla testa. Però per il momento cerchiamo di darvi solo degli input e delle cose che magari poi potete mettere in pratica, ok? Perciò l'allineamento corretto è che quest'osso che ha il femore deve cadere sopra il ginocchio e la tibia perone, ok, deve cadere sopra la caviglia. Poi dalla caviglia il peso sul metatasso e sulle dita deve cadere tra il secondo e il terzo dito del piede. Perciò in questo caso Giorgia deve portare gli alluci un pochino più verso l'interno. In questo modo abbiamo più peso distribuito in maniera omogenea sulle dita e sui talloni e su tutte le articolazioni della gamba che sono l'anca, che trovate a metà del linguine, il ginocchio e la caviglia. In questo modo il peso del tronco che gravita sulle gambe sarà distribuito in maniera più corretta. Questo cosa vuol dire? Che anche se cammino molto ma tengo questa posizione corretta ad esempio non avrò mal di schiena nella zona bassa che molte volte succede. E poi è importante pensare questa cosa che le nostre due gambe sono le fondamenta del nostro corpo e devono essere come i binari dei treni. Avete presente? Il treno corre su due binari che sono paralleli. Ovviamente il binario non può andare a un certo punto uno a destra o a sinistra perché altrimenti il treno non potrebbe più correre. Questo poi, un altro esempio, può essere le gomme dell'automobile. Se le gomme non fossero con una giusta convergenza quindi sarebbero tutte quante consumate verso l'interno e verso l'esterno porterebbero delle conseguenze agli ammortizzatori ad altre parti della macchina. È la stessa cosa che succede con il vostro fisico. Quindi il fatto di camminare con degli arti non allineati correttamente porta degli scompensi alla parte superiore. Quindi adesso Giorgia cercherà di camminare mantenendo l'allineamento degli arti. Inizialmente quando inizierete a camminare succederà che avrete la sensazione che le ginocchia vanno verso l'interno e potrebbe anche accadere. Questa è una cosa che muscolarmente lavorandoci con i pilates un pochino alla volta può essere corretta. Ovviamente non è semplice subito fare questa cosa. Bene, un esercizio molto importante per rilassare la muscolatura del piede è procurarvi una pallina da golf. Questo è il nostro consiglio della serata. Posiziono la pallina da golf sotto il piede metto un po' di energia e la porto tra le dita e il tallone qualche volta. Poi la muovo in senso circolare cercando di spostarla dall'interno verso l'esterno. È importante che se sentite in un punto più doloroso è proprio il punto dove devo insistere a massaggiare non troppo violentemente però a massaggiare perché in quella parte probabilmente la muscolatura è più contratta. La sensazione che avrete dopo questo esercizio è veramente diversa dall'altro piede. e con questo consiglio che vi sarà molto utile vi auguro buona serata e vi aspetto domani sera.